Abbiamo risposto alla richiesta di incontro del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, siamo venuti oggi a Pigi, ci aspettavamo per la verità una novità politica, dopo quattro mesi di istruzione e commissione, dopo la scelta della maggioranza di rinviare il dibattito sul salario numero reale, con questa novità però non è arrivata, non c'è una proposta alternativa del governo né della maggioranza e questo a noi pare un problema perché il salario numero reale risponde non all'esigenza delle opposizioni ma a quelle diverse milioni italiane che vivono e lavorano in condizioni di povertà, con salari troppo bassi, un problema che riguarda l'intero paese, la nostra proposta rafforza la contrattazione e consente una dinamica salariale progressiva, cioè aiuta a far crescere tutti i salari, non solo quelli pochi, dunque non c'è una proposta, ancora non c'è una proposta, Giorgia Meloni ci ha detto che il sistema è un tema importante, che il governo vuole confrontarsi con le opposizioni sulla materia complessiva, naturalmente noi siamo disponibili al confronto, anzi consideriamo questa disponibilità della Presidente del Consiglio un primo risultato dell'iniziativa convergente nell'opposizione, un successo nella nostra effettiva ed è il motivo per cui continueremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane la nostra battaglia politica sulla nostra proposta di legge, che continuiamo a ritenere una proposta di legge efficace, solida è utile a risolvere uno dei problemi del nostro mercato del lavoro, non la panacea di tutti i mali, ma una risposta efficace, su questo continueremo a lavorare, chiederemo il sostegno dei cittadini e delle cittadine con una volta di firme nel Paese e continueremo alla ripresa del lavoro in Parlamento a confrontarci per fare in modo che il mercato del lavoro di questo Paese non conosca più questo ossipolo, per cui si può essere lavoratori e lavoratrici, ma anche contemporaneamente poveri. Grazie. 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 Grazie.